A mutare, vensiti, scegli! No, no, per primo no! Per primo no, per primo no! Perché? No buono! No buono, no buono! Mo' panico! Mo' panico, mo' panico! Che suono entra qua? Non sto a fa cazzo! Dove? Dove? E nel... dove ci sono i circuiti dell'elettricità della luce? Esatto! Io ero in basso a sinistra il motore... Tanto mi sa, ci sono benessato io per giusto la luce? Io non c'ero! Ah, io raga ho fatto i task in navigation, sono in caffetteria in questo momento... C'è che stava come a fa la luce adesso! Io, io, io... C'è ragione! E non c'era nessun altro dentro! E dove stava il corpo? Io sono... Ero in alto a destra! In alto a destra, esatto! Una domanda a Fermi, perché non sono uscite le foglie quando hai tirato giù la cosa delle... No, le vi saltate! Scusate, allora, scusate, allora, perfetto! Però, nel senso, fai già accuse così pesanti! Io, sicuramente... No, 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 no! Sì, sì, fa il tutto, poi! Ho visto la barra che si alzava due volte, però volevo soltanto chiedere! Perché ha fatto anche le altre fogliette dove c'è l'ossigeno là, che metti il numero dei codici! A me sembrava di avere estermi adesso in elettrica davanti! Sì, sono appena entrato! Aspetta, aspetta, come? Come, come? Io sono appena entrato, sono appena entrato a fare le quest nella parte dove probabilmente avete trovato un corpo, non lo so! Però ho visto uscire Panetti dal... poco prima! Ah, mi stai accusando? Perché stavo con power, proprio a sport, la mente testimoniale che erano entrato di un giorni... Io ho visto, ho visto uscire, eh! Lo ho visto uscire, eh! Ah, ragazzi, io posso garantire per Surry che è safe, perché l'ho visto fare delle quest, avevamo alcune in comune! Io, quando sono andato a riparare le luci, ho trovato panetti sul pannello che le stava riaccendendo e l'aria accese lui perché stava correndo insieme no è come insieme che mi stava correndo io l'ho visto insieme ho visto panetti e giorgio insieme si potrebbero salvare una vicenda sinceramente ma che io non lo cominciamo chiuso stato con suri tutto il tempo mi e e moon perché l'ho visto che era lì vicino a me ridendo mi è accusata basso ribadino che sono stato con te tutto il tempo abbia fatto la sequenza ma accusata messo in giro ma non fatto il tempo sono stato insieme ok svegliamo se mai prima partita porco dio me se sente me se sente prima partita no dai prima partita no me se sente su discord pronto o no ancora tu da ituna ti prego ho svuotato marcof grazie si è il king della lobby gang ma ti prego non sparare boom boom 17 sto morendo ma canterò una canzone modifica che vuol dire ok c'è qualcuno alle telecamere o sono trovato il cadavere del povero papà dove l'hai trovato il cadavere lomba sopra sopra proprio sopra la ventola io stavo facendo scusami mai allora come lomba dimmi dove esattamente non hai visto l'ho brava vento dell'elettrico sopra sai che ce l'ha pensato fermi 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 con allora con te lo confermo perché l'omba è passato con me che stava stava venendo elettrica perfetto perfetto io l'ultima l'ultima volta ho visto giorgio era con me a guardare le telecamere poi l'hanno zagagnato sono da fare la missione quella degli alieni generatori gli hanno gli hanno saccagnato la chiappa e abbiamo visto il sacicciotto morto la quindi non so io ho visto qualcuno andare via lì da però aspetta io confermo che l'omba è venuto come fino a io sono dico non posso essere stato la capra è semplice perché io sono startato poi è andato a navigation a fare avevo tutte e due le questo poi di dirigere la nave di mettere il mirino al centro e poi sono passato sotto e ho incontrato allenato sono andata lì io da elettrico non ci sono passato finché non sono andato a fixare le luci è che statisticamente gli assassini masticano sempre qualcosa mentre sto mangiando ok è che ti ho visto andar via poi insieme a stermi su ora mentre tornavamo verso caffetteria però tu sei uscito dalla io sì io sono uscito da c'è stavolento le cose le cose quali cose le cose le cose ad esempio anche deglutito ha deglutito mentre so bene a peroni è ridotto il l'erbe 1 peroni esatto super marketing secondo me dobbiamo voluto a votare qualcuno no 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 considera che siamo meglio è per vincere io ho schippato raga non ho proprio non so che alienato non lo ha capito prima difeso lomba poi l'ha accusato cioè nel senso perché ero storage mi sono separato da lomba poi è andato da solo va benissimo ok mi sentite su discord ok devo rinfrescarmi un attimo perché prima partita così non si può fare prima partita così non si può fare dice parra grazie mille per i cinque mesi ho fatto la cacca verde dovresti essere fiero sia di me che dei nostri cinque mesi insieme forever and ever il corpo potrei fatto di stepney potrei fatto in che senso in che stato stare di composizione era tagliato scriviva e gli uscì un piccolo osso non so in che modo è stato ucciso credo che non ho trovato la seconda parte del corpo non passato io stavo andando verso destra e stepney stava facendo le voglie io mi sa su rievi elettrica ieri in elettrica dall'altra parte appena uscito l'elettrica a sinistra aspetta chi è che parla non è ancora uscito stavo uscendo con te io parlo poco perché sono timido sta scusa gli esterni parlavano servi se no no io ci sono io ero vicino a stepney e poi è stata a fare le questo peccato lomba è alienato che stanno facendo le quest con però poi e quando sono uscito io su rieo questa che forse non so se l'ha fatto prima o dopo cosi ma tanto prima se il cielo sono stato io no 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 però io vorrei fare una domanda alla parte opposta dallo storage e stai andando verso engine che cazzo c'è l'altro non sono nell'elettrica l'assessi obbligo di essere entrato ci stavo aspettando a sinistra ma va appena stavano che riuscire nel corridoio c'era un altro prima con noi ma non mi ricordo che forse di confusione questi corridoi sono 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 traballanti però io vorrei fare una domanda a lomba sinceramente perché dopo che e dopo che mi sono beccato con alienato se è arrivato tu dove eri prima mi dovrei fare l'ultima quest poco prima che chiamassero l'energia risotto io l'ho sceso di sotto ti spiego tutto no però non c'eri sotto non c'eri lomba ero sotto aspetta aspetta fammi spiegare prima di domani devi soffermi in caffetteria perché stavo degustando la pizza e bevendo sono sceso sotto sono andato a riempire la benzina avete chiamato il sabotaggio e siccome il primo sabotaggio se non si fosse stato giorgio saremmo già tutti esplosi in aria sono corso a fare quello in armi e non ho finito la quest sempre masticato che cazzo è che mi ha votato io 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 non ti vedo mai ho capito una grande cosa io non ti vedo mai all'ultima nessuno ok 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 Manca troppo Mi si sente su discord? Potremmo fare una strage E sono 9 KS 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 K Ok? Ok Surry, allora io mi fido di te al 100% Anche io Io l'ho finita, ti sto seguendo perché mi fido E non voglio stare da solo Io mi fido per niente di Stermy Che mi ha votato l'ultimo, visto che nessuno votava Allora Io ti ho votato dall'inizio E poi si sfruttavi Allora, aspetta Allora, aspetta 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 Fatto le missioni ragazzi Io lo escludo Secondo me Posso però parlare Posso perché è sicuro Io Sicuro perché Pro Siamo passati Chiuse le porte Per Zaccagnan Cristiano Surry Confermi Ma saranno le due Ma giudico Termi Perché voi l'eccitata Ma che senso E adesso volevo ucciderti La domanda È questa Nessuno Se nessuno ha mai visto Lomba è solo all'ultimo Comunque ho provato il cadavere Mi spellono a me Sapete neanche Oh Non sapete neanche dove cazzo è stato trovato il cadavere Tutto questo E appunto dove l'hai trovato Che cazzo Non è quello che è Quello che è Quello che è No no Stai un attimo Stai sviando Per favore Ok Lomba Sì certo Prego Prego A parte che io sono C'hai pensato Ok Già che c'è Sono troppo Questo Car puttana Ti giuro Trovo il modo di farti fuori Anche se non sono l'impostore Lo giuro Ok Stavo dicendo Ero in telecamere Sono sceso sotto Io sto guardando le telecamere Perché non c'erano le luci Ho detto Non ci sono le luci Le telecamere Vedi anche se non ci sono le luci Magari vedo qualcosa Ok Sono sceso sotto E non c'era nessuno Che stava fissando le luci Esattamente di quello Che ci stavo parlando Prima dei sabotaggi What? Suri Non c'era nessuno Siete arrivati dopo di me Siete arrivati dopo di me Siete arrivati dopo di me Devo dire una cosa importantissima Ma dopo mezz'ora Erano nella mia stessa stanza Mentre facevo la quest Quella dello scanner In realtà poi non è quella dello scanner Cioè durava 50 secondi Non so Ok Ok Bravissimo E non mi hanno ucciso Quindi vuol dire Che uno dei due È sicuramente un impostore Ma probabilmente Uno dei due non lo è Vabbè potreste Sarebbe una falsa accusa Che cazzo vuol dire Scusa Io non mi fanno Non è l'isturine di Monna Magari solo Dobbiamo buttare fuori qualcuno Su Panetti Allora Aspetta Il voto nostro è importante Chi ha votato Panetti 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 Non so Io Convincere Però l'omba Era davo da prima lomba Che panetti Panetti Non lo so Alcune volte Non lo so Io sento Gigi Un panetti Un lomba Regasso Pregamo Oh my god C'è un inculato No 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 Secondo me è giusto Ah non ti dice se Va benissimo così Va benissimo così Che se ne fa Che se ne fa Benissimo Ho preso no Porco dio Sermi E Suri Sermi e Suri Perché Suri Perché Ammazzato Ammazzato davanti a me No ma non è vero Ammazzato davanti a me Moon Ammazzato davanti a me Moon Ma cazzo Ma sei un assassino Provetto Complimenti Cazzo Non direi cazzate No 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 lomba Ale lomba Votalo Non fare la cazzata Sermi L'ha ammazzato davanti a me Buona ma qua Non l'ha chiamato Non l'ha chiamato Non l'ha prendo Ah minga del fortino Perché sei un cane Ma perché Mamma mia Che ansia Non me la prendo Ma stai un cane Che muoio Che muoio Che muoio Che muoio Che muoio Muori Merda domo Bezza di merda Votala come l'hai tragiardata Lomba E l'ha ucciso davanti agli occhi E ti accusa Mamma mia Lombaggine Che cane che mamba Io volevo prendere subito Pulsato Con tutti i piedi Goda Pezza di merda Mi stava esponendo il cervello Vabbè buona Tanto così Vada che inzitto sulle gambe Dimmi che non è di lo stronzo Te prego Ero rifame No Ma hai conquistato Io ho degli alibi da impostore Riuscita a dire cazzate Piuttosto che dire che è vero Sono andato a fix lights Non c'era nessuno Mi dite che eravate in due Dai bro Allora c'era Non l'ho chiuso io Non l'ho chiuso io Ho capito Ho fatto fregato E sta cosa Non è vero Ma se mi sono chiuso da solo Chi cazzo ho fregato Ma non riesco Faccio Abbassare Il culo Non lo faccio Troppo Secondo me Non ce la faccio Devo togliermi dei neuroni Che devo fare Non lo capisco 5 4 Ragazzi vi voglio bene Andiamo Andiamo Ci vediamo all'inferno Sono in cappetteria Non c'è un problema Ci vediamo all'inferno Shhh! oh no dove navigation io l'avevo appena visto ragazzi ragazzi allora mannaggia a me in i cazzo di occhi dal tonici di merda allora mi sembra aver visto un giallo che entrava dentro la botola però non so sicuro come giallo non sono sì no non sono sicuro raga perché chiamato ovviamente giallo e surry lomba non può essere stato stava dietro di me dietro il fiero di tavola in basso sinistra ma o giorgione comunque te ti muovi da killer fermi un secondo l'omba perché chiamato deve essere portato a mondo perché ero dietro di lui avete trovato allora che dove navigation dove si fa la missione con la navicella io mi sembra aver visto giallo rega nel dubbio sono monelo ma dai spara sta cazzo la volete sentire la cosa sono perché sono andata la vige con il libro di giorgio giorgio mi potessero esplodere le palle le palle non sono io mi esplodessero adesso dio adesso bomba uno schiopo enorme io ero in navigation proprio voglio non ce la faccio a difendermi vai io ero e ragione da scuri non basso da scena votando non risurre la vita io io ho fatto una cosa altrimenti potete meglio visto il giallo in tabro sentavano il traguardo al gioco ma sicuro sicuro buttalo poi nessuno se la vera lo viste nel dal di case che vado in bagno proprio regala che è che votiamo io ho votato dovevo no io ho visto power lontano da di fare delle tasche regalo ho visto entrare dentro poverino ma che stai votando suri 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 ok capa rai a riga io non lo so ma in navigation non c'è nessun cadavere quello ci spette certo a storyboard 4 ammazzati 4 con il piede mi sentite su discord ok sono da solo suri ok 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 dai e prenditi sta subi in postore infame ok sono da solo ok 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 Siete le camera accese Siete le camera accese Siete le camera accese Grazie Non stai facendo nulla lì vicino Non ci credo raga Io ho detto qualcuno avranno ucciso qualcuno Nella sala motori e sono andato a controllare No Che facile Ma che cazzo per una volta che lo faccio Che facile Che facile Che facile Io posso dire che sono un bastardo Che mi ha ucciso da FK Perché Non è stato lui Vado Vado a cagare Io non ho capito come è andata No C'è vero L' Walking mi dispiace progetto proprio visto insomma roma si metterà io mi sono aggrappato con la roba del non lo vede bro non c'è capito un cazzo perché c'è però di giallo poi ci stava che stava in ossigeno non arriva altro è porco due perché ho detto avranno ucciso qualcuno i motori l'hanno fatto apposta no a mandarci l'ossigeno e admin da c'è la lomba che stava la vede se telecamere portato il guardone a regalo andate in telecamere c'è stava l'omba che stava a fare il guardone ma che cazzo è tutto in telecamere ma che palle sta così pure dentro il cinema cose così sono sicuro a 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 Grazie a tutti Ok 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 Ho trovato Michelle nel mio luogo di lavoro Ok 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 Le camere quindi Io vedevo Lord che mi inseguiva con insistenza Ma ci siamo beccati una volta sola in elettrica due secondi fa Allora io Lord Tu mi stavi seguendo? No, io sono entrato in elettrica E tu stavi uscendo Quindi ci siamo poi incrociati lì Ho trovato Lord mentre andavo via da elettrica Ecco perché io stavo entrando Io sono stato con Lord in admin poco prima E potevo uccidermi tranquillamente e non l'ha fatto Ok la cosa che mi fa sospettare è Panetti ha chiamato il corpo Potrebbe essere lui una tattica Non so perché tutti quanti votano me da subito Facciamo un per due Aspetta Facciamo un'altra partita così Vabbè vabbè È troppo presto Non puntiamo È troppo presto Schifo 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 Ok Io schifo Schifo pure io Flimma parla poco però Vabbè Vabbè Non dovuto in nulla Non sto facendo Ma basta Basta Ma perché dovevo essere sempre io il killer Porca madonna Assurdo Absurdo Ah Fixing light Ok Nessuno viene qua Perché non si avvicina Perché non si avvicina Ai 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 Dove Ai 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 Aspetta Non so chi ha chiamato Ah io Sì Votate tutti i chitano Votate tutti i chitano L'ho visto entrare dentro una cazzo di botola Votate Di tutto rosso Non mi potevo Non stoppiamo subito Voto Giuralo sulla sdrubalini SPA Sulla sdrubalini SPA Ok Alla può essere che a chitano Sì Però non mi ha ucciso Io stavo da solo Vota chitano Vota Chitano Vota e muori Mi t'havo visto Stavo dito Vota Eh Chitano ha capito Qualcuno ha visto Ivan Nell'ombra In marcia duo Sono nero Sono nero Chitano Mi si sente Su discord Mi si sente Sì 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 questo è il strolled il nostro corso gratuito ma se non posso è trollata questa ormai ormai che vuoi fare sto da solo mancano due task porco dio allora sì allora ho trovato paghele sotto sotto dove? non mi ricordo il posto come si chiama sotto in basso passando da destra andando giù allora io avevo il sospetto di paghele perché lui mi stava seguendo mi stava seguendo e mi sono ritrovato con Zeb89 con le porte chiuse e avevo visto solo paghele ma siccome paghele è morto l'unica persona che ho visto in quel posto era Banetti Banetti che posto? che posto? che posto? no da quelle parti no in quel posto dottor del cadavere da quelle parti a destra cazzo sta il cannone come si dice non mi ha dato come lo sta vicino al cannone strano perché è stato a sinistra sono presentato nella esatto confermo Banetti che è stato sempre con me a sinistra cioè ci siamo i ragazzi di 90% molto 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 spiegate bene molto curioso no io l'ho visto ma ne lo sai che stai mentendo perché mi ha visto si abbatto me l'hai visto no mamma mia posso anche anche Zeb ha visto banetti è posso allora io Zeb mi hai visto tu Zeb ti ricordi si sono ok bravo bravo ci dici dove dove che non ho capito un cazzo ma posso vai allora mi sono state chiuse le porte in faccia secondo me è stata una distrazione perché franco per me era un sospetto allo stesso tempo era anche con me esatto una volta parte erano clips e panetti scusa philip philip scusami con con simu con il mio cio e mancava mancavo ok esatto cosa cosa 6 5 cosa ancora ancora non so ma sicuro sicuro in paniera grazie ma è l'unico che mancava la persa la tante è persa regà porco dio manca due tasche adesso sprinto le kill sprinto le kill in realtà no in realtà è fattibile chi è che sta chi è che sta in security a mamma mia mamma mia credo che mi ha salvato da un'eventuale morte c'era panni hanno chiuso le carte in faccia a me che stava in seguito come non me lo ricordo mi ricordo un nome io è noto io no mi sta viste quel miste di girando intorno due se so chi si è portato a quale no io ci aspettato lì per vedere se aspettate ricordatevi che io ho fatto fuori kitano ricordatevelo che cazzo me ne frega ho fatto fuori titano che ci ritornano dentro fra se non è in giro per troppo aggressivo adattopare caso meno dove di tu prima che scattasse l'allarme ora allora io sono andato tutta a sinistra poi è passato panetti flame e non mi ricordo chi e mi si è chiusa la porta davanti e sto rimasto tipo incastrato allora posta che stavamo di più ridice sono arrivato dopo però io stavo con panetti perché ho cerito le tappe l'ho finite quindi non so che cazzo fare tipo posso dire una cosa che rubino ha fatto da taschi in alto a sinistra in basso a sinistra quello del del carburante quindi probabilmente non è lui perché non credo che sia così intelligente da fare queste due fake task philip l'ho visto alla tasca a sinistra e si è aumentata la barra e anche lui ha visto me quindi o zeb o santo cielo panetti per me poi fate voi io ho scopato se non è prima ma ma so per quale motivo mi sento mi regalo se muore panetti so io se voglio io e panetti easy facciamo così che vedevo di non è così tanto sicuro nell'uno e l'altro ma vabbè si però potrebbe essere un ipote è finita è finita è finita hanno gruppato mo gruppano e chiaramente si perde è finita è finita è finita è rip희 è finita non si può più fare un cazzo a gruppo pure io Che volemo fa? Se volete divertire Che cazzo è successo? Io sono arrivato lì Sono entrato Rega siamo andati a fare la tasca Come si chiama l'emergenza Io e lord Dentro admin E' morto lord Ma io so A dove ultimo Io la stavo facendo L'ho finita Mi è uscito fuori il tasto report Tu non stavi nella massa Che eravate che eravate Philippe tu Eravamo io e lord Che siamo entrati per primi A fare l'emergenza Aspetta eravamo tutti nella massa No Io mi ero distancato Chi c'era fuori Philippe per andare sopra Perché nessuno stava andando Rischiando Quindi è qualcuno di voi Io posso dire una cosa Alla prima emergenza Alla prima emergenza Avevamo stati con lui Sì Chimo dice che non si è stato Esatto La prima emergenza dell'ossigeno Franco è rimasto dentro il reattore basso Come si chiama Lavora in gioco Chi è che parla Chi è che parla Philippe Sei rimasto Ok Siete colpevole No 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 Parla 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 di Lui non è lui rubi Non è lui però Può essere Di la tua teoria Di la tua teoria Di la tua teoria Ancora stavolta Franchino Fermo lì Io per ora sono Rimando Dove Filippe Filippe Fermo Immobile Ma pure lontano Eh sì perché quando metto Quando metto la mappa Io siccome sono Scivaloide Scrivo Metto tab Mi fermo E scrivo E spingo tab E poi vado avanti Andiamo ad esclusione Chi sicuramente non era Qua chi sicuramente non era Io sono Chi era più lontano di tutti Io Io chi Io Barto Sono Barto Cazzo Barto Barto Io stavo andando a quella Norte che nessuno di voi Stava andando Avremo Per Su Filippo Dai profili Fa molto più duri Parto panzer Sono Facendo un grande errore Vanetti Stai facendo un grande errore No No Rega Che cazzo avete fatto No Avete sbagliato Ragazzi Avete sbagliato Se non è lui E' sbagliato Ragazzi Questa è la parola Che cazzo di due Questa è la parola 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 Mi hanno chiuso le porte Chi è che si è allontanato? Io, mi hanno chiuso le porte Perché vede solo in giro? Perché stavo facendo, stavo ridando la corrente Perché tu mi accusi, perché forse sei te Perché forse eravamo in gruppo tutti quanti Voto Panetti, perché mi accusa sempre Sei te, secondo me Sei troppo aggressivo su sta partita Se non è lui E che faccio? Rimango in gruppo con voi, ma sono deficiente E' troppo aggressivo E' trollato, votatemi Che è stata a fa? Io ho votato già Tocca a Zeb Perché Chi è che si allontanava solo? Dite solo questo Io mi sono allontanato per metà la luce Già da prima, poi so io quello che accusa Sì, ma non significa che... Io voto franco, fate quello che vi pare Vai, vai Quindi, votate me e fate un grande sbaglio Zeb, porco Dio, voti! Fate, fate! Zeb, voti un qualche secondo, devo fare il 2 più 2 Eh, voti chi le pare Perco i dici Beh, un 2 più 2 Questa mi sembra più, diciamo... Vabbè, va bene, proviamo Riproviamo Perché sono stato scammato, ma va bene Vai Se ne è panetti rosico, tu dico Se ne è panetti, voto rubi Per me era più franco Non c'era il sospetto panetti No Mamma mia me l'ho detto Era troppo aggressivo Era troppo aggressivo Era troppo aggressivo Ma anche tu, ma perché ti metti In quella... Cioè, il tipo, quando ti guardavo le telecamere Di fermo immobile Perché io... Ho fatto il Casper Gameplay per tre ore Non ci facevo veramente più a far le task E finire Gli stronzi di altri fantasmi Che non facciano le task Maledizione Io vado ragazzi Ci vediamo domani Ciao